Arrivano le cessioni in casa Juventus e probabilmente arrivano anche i primi colpi di mercato in entrata che hanno a che fare con il centrocampo, che hanno a che fare con l'attacco ma occhio anche alla difesa perché oggi vi abbiamo parlato di Kessy per quanto riguarda il centrocampo di Lindstrom per quanto riguarda l'attacco occhio però perché nella serata è arrivata una notizia in merito alla Juventus per quanto riguarda la difesa non per quanto riguarda un calciatore che la Juventus starebbe sondando ma esattamente il contrario, cioè alla Juventus è stato proposto un calciatore per quanto riguarda la difesa e quindi andiamo a scoprire, andiamo ad analizzare la notizia, le dettaglio oggi qui su FCM Newsport io come sempre ricordo che qui sarete sempre costantemente aggiornati sulle vicende alla Juventus quindi se vi va in maniera del tutto gratuita io vi invito ad iscrivervi al canale attivando la campanella notifica se vi va di lasciare un like a questo contenuto questo ci aiuterebbe per lo sviluppo di nuovi contenuti allora andiamo alla notizia perché secondo vari fonti di mercato la Juventus avrebbe avuto un colloquio con l'enturato di un giocatore che sembra essere un difensore molto interessante che in passato è stato accostato al Milan perché il Milan due anni fa stava cercando un difensore centrale poi ha virato su alto, ha preso Calulu, poi successivamente ha preso Tomori ma inizialmente era sulle tracce dei Sinali Diomandè difensore ivoriano classe 2001 quindi parliamo di un giocatore giovane di 22 anni quindi un giocatore che potrebbe arrivare tranquillamente per la prima squadra e attenzione perché la notizia è che la Juventus non è stata a Juventus a fare un sondaggio per questo calciatore, questo difensore del Lione bensì sarebbe stato proprio lo stesso entourage del giocatore che vedendo il contratto di scadenza non quest'anno, o meglio non l'anno prossimo, il 2024 ma tra due anni, il 2025, si sta cominciando a muovere per poterlo piazzare diciamo in qualche modo avvisando già fin da subito quella che è la squadra francese del Lione avvisando che si stanno facendo dei sondaggi per cercare di piazzare il giocatore da qualche parte è un giocatore che in questo momento è ancora abbordabile a livello di prezzo perché parliamo di un giocatore che attualmente ha valutazione che si aggira intorno tra i 10 e i 15 milioni di euro e che sarebbe stato di recente proposto al Juventus difensore che ripeto nel 2021 era stato accostato al Milan nel Milan dei tempi aveva in difesa la coppia formata da Romagnoli e Kier e stava cercando dei rinforzi e secondo varie fonti di mercato questo era il nome che stava cercando il Milan questo insieme ai vari Caluli e Tomori poi di fatto il Milan non lo ha preso ai tempi c'erano ancora Massara e Maldini come DS del Milan e per questo che il Milan lo stava diciamo valutando ai tempi aveva 19 anni poi ha virato su qualcos'altro difensore interessante non stiamo parlando sicuramente di un fenomeno anche perché stiamo parlando di un giocatore che per tanto tempo è stato accostato a vari club importanti però vuoi non vuoi in un modo o nell'altro poi alla fine il giocatore veniva sempre poi o meglio gli veniva sempre preferito qualcun altro e quindi da due anni che si parla di lui come un giocatore che prima viene accostato al Milan poi addirittura è stato accostato al Chelsea ora viene accostato alla Juventus e di fatto negli ultimi anni ci sono stati vari sondaggi addirittura lo scorso anno è stato vicino anche a dei club italiani che non sono i top club di cui si può pensare ma sono stati club come il Sassuolo operazione che poi per esempio l'anno scorso non si è conclusa col Sassuolo perché il Lione ha sparato alto ha chiesto 18 milioni di euro il Sassuolo non era pronta diciamo per andare incontro a questo tipo di acquisto ricordiamolo Diomandie è un classe 2001 che viene dal Lione quindi è chiaro che il Lione chiedeva delle cifre importanti in Italia Sassuolo e Bologna l'hanno cercato l'anno scorso poi è stato accostato il suo nome al Borussia Mönchengladbach a Leitar Francoforte a Raio Valecano insomma sono stati vari club che l'hanno cercato però parliamo di un ragazzo che è un classe 2001 e parliamo di uno che ha già dimostrato di avere delle qualità tecniche importanti è una buona personalità notevole personalità buon posizionamento stiamo parlando di un giocatore che però ripeto secondo me ancora deve crescere sotto vari aspetti la cosa interessante però è che può fare sia il centrale che il terzino a destra però attenzione perché è un terzino parecchio bloccato cioè lui nasce come centrale difensivo che all'occorrenza può fare il terzino bloccato e da questo punto di vista mi fa pensare che possa essere una soluzione per la difesa a tre ricordiamoci le parole di Allegri che ha parlato in conferenza stampa qualche ora fa ha parlato di Eventus che ha trovato la sua solidità e la sua la quadratura è stata trovata proprio in quel tipo di assetto lì cioè 3-5-2 o comunque difesa a tre questo ragazzo in questo momento potrebbe starci nella difesa a tre e oggi se si parla di lui si parla di un giocatore non eccezionale però ricordiamoci che il Milan da Lione ha preso per un minuto e mezzo proprio un anno e mezzo fa Calulu che era un giocatore in scadenza esattamente come questo ragazzo e che non sembrava questo grande fenomeno e invece al Milan non è che il Milan ha tra le fine un grande fenomeno che Calulu non è un fenomeno però è un buonissimo giocatore che per esempio oggi la Juventus potrebbe far bene infatti si era parlato in passato di uno scambio tra McKennie e Calulu e all'Eventus secondo me andava di lusso perché avrebbe trovato un difensore che era bravo sia per fare il centrale che braccetto di destra nella difesa a tre e come caratteristiche questo ragazzo ricorda un po' Calulu cioè un centrale che può giocare anche a destra ma comunque con caratteristiche più difensive che offensive di fatto la Juventus non verrebbe a fare il terzino perché una difesa secondo una difesa a tre il terzino non c'è c'è il quinto di centrocampo e come il quinto di centrocampo il buon il buon Diomandè non c'entra proprio nulla quindi verrebbe a fare o il centrale nella difesa a tre e quindi ogni tanto potrebbe sostituire ad esempio proprio Bremer oppure il bracetto di destra in questo momento nella Juventus il bracetto di destra è Danilo il problema è il bracetto di sinistra che in questo momento è Alexandro quando gioca a Gatti che non è un sinistro gioca a destra e Danilo grande jolly difensivo si sposta a sinistra quando gioca a Alexandro lui rimane lui rimane a destra appunto Danilo il problema però è questo ragazzo Sinalidio Mandè arriverebbe al posto di Alexandro o arriverebbe al posto di Bonucci e questo è il vero dilemma il ragazzo è un destro quindi vuol dire che anche con l'arrivo di questo ragazzo Danilo si dovrebbe spostare nuovamente a sinistra e rimarrebbe quel problema per questo io credo che Juventus dovrebbe andare incontro all'acquisto di un mancino per mettersi come bracetto di sinistra e a quel punto sì poter salutare definitivamente Alexandro e poter andare incontro a quella che è una recessione contrattuale che secondo me è inevitabile o recessione contrattuale che costerebbe la Juventus oppure magari si spera nel miracolo degli arabi che dopo aver fatto grandi acquisti in Europa dopo aver perso tanti giocatori dopo aver fatto i tentativi clamorosi mi viene in mente il nome di Lukaku mi viene in mente il nome di Pogba mi viene in mente anche il nome di Kiri Mbappé secondo me Alexandro potrebbe anche starci in questi quasi giocatori o figurine mi verrebbe a dire andare a fare proprio in un contesto come quello dell'Arabia Saudita staremo a vedere questo nome è stato proposto alla Juventus certo è che al posto di Alexandro no perché non è un mancino ma potrebbe starci al posto di Rugani qualora Juventus dovesse recidere di lasciare andare via Rugani o al posto di Bonucci quindi le soluzioni sono varie anche in questo caso esattamente come quando si parla dell'attacco o del centrocampo è necessario sfoltire perché in difesa c'è un Bonucci che cerca collocazione ma fino a che non esce Bonucci che ha un ingaggio importante non può entrare nessuno ma secondo me anche si è vincolati anche alla presenza di Alexandro quindi l'Arabia Saudita potrebbe anche bloccarlo questo ragazzo però poi bisogna capire con le uscite come si mette è giunto e dove essere molto bravo a piazzare questo ragazzo a piazzare qualche giocatore per poi poter eventualmente prendere questo ragazzo avete mai visto giocare vi piace non vi piace soprattutto è un colpo che potrebbe essere da Juventus e da Giuntoli parleremo anche sotto nei commenti perché all'Arabia Juventus è stato ufficialmente proposto fino a lì di Omane di Omane Grazie a tutti.